Pronti ad accogliere gli orfani che sbarcheranno al porto di Salerno, i bambini che giungono dal Nord Africa, che viaggiano per una nuova vita, per abbracciare una nuova speranza. La Casa Famiglia di Rocca Piemonte e l'Associazione Rosa Liberti si sono già attivati in questo periodo per tendere una mano ai più bisognosi. Lo spazio è quello che è, ma questo sarà solo un primo passo per tentare di ampliare il raggio d'azione sotto l'aspetto accoglienza dei meno abbienti, in questo caso dei migranti. Noi ci teniamo affinché Rocca Piemonte diventi un polo sociale. In tal senso abbiamo dato disponibilità a Salerno affinché possiamo accogliere anche questi bambini che non hanno genitori, questi immigrati che arriveranno a Salerno. Questo anche perché, almeno io personalmente, sono molto legato per un motivo familiare alla drammaticità che stanno vivendo nella Repubblica Democratica del Congo, dove questi bambini hanno bloccato le adozioni e quant'altro. Tant'è vero che Rocca Piemonte, penso che in futuro organizzeremo un evento a sostegno di questi orfanotrofi che sono nella Repubblica Democratica del Congo. E anche per questo leghiamo questo discorso degli immigrati. La Casa Famiglia è tutto questo, è accoglienza per aiutare. Avete avuto già contatti con la Caritas in tal senso? Con la Caritas siamo in corso d'opera, abbiamo con la Tribù del Mondo, che è un'associazione a livello nazionale che segue questi orfanotrofi, quindi ci stiamo muovendo, ci teniamo tantissimo al sociale Rocca Piemonte. Quante persone, quanti bambini potrebbe accogliere eventualmente Casa Famiglia? La Casa Famiglia si chiama Casa Famiglia perché è un nucleo piccolo, non può accogliere più di sei bambini. Chiaro, questo significa che se la cosa dovesse prendere coppo potremmo anche immaginare più Casa Famiglia Rocca Piemonte. Adesso siamo partiti così con il piccolo e speriamo di poter aiutare sempre più persone.